Buonasera, bentornati ad una nuova puntata di Antropos, che questa sera dedicheremo alla regione Piemonte. Dieci mesi di governo per la nuova regione governata da Chiamparino, una giunta che si è insediata dopo quella del governatore Cota, che è stata travolta dalla bufera del ricorso al TAR, per la quale la giunta ha cessato l'attività un anno prima. Anche oggi questa giunta si trova ad affrontare uno scoglio difficile da superare che riguarda proprio il ricorso circa l'autenticità e il metodo di raccolta delle firme che sono state raccolte in campagna elettorale. È chiaro che ci si chiede che cosa accadrà il 9 luglio quando verrà emessa la sentenza del TAR a proposito di questa vicenda, però nel frattempo sono dieci mesi che questa giunta lavora, che ha fatto delle cose, ha messo dei progetti in campo e quindi cercheremo di capire quali sono state le differenze di questa nuova governance e per esempio come ha lavorato e come sta lavorando anche il Consiglio regionale. Infatti questa sera siamo in compagnia e sono contenta di riceverlo e lo voglio salutare con il Presidente del Consiglio regionale Mauro Laus, che è venuto. Buonasera. Con lui vedremo che cosa è stato fatto in questi dieci mesi, quali sono i progetti e le aspettative di questa nuova gestione che è iniziata, vedremo quali sono le prospettive anche rispetto ai problemi che ci sono in campo. Allora, è ovvio che in questo momento la Regione sta attraversando un periodo difficile, lo vedremo nel corso della puntata, ci sarà un incontro, diciamo un deadline per cui bisognerà poi decidere che cosa potrà accadere, però già nella scheda abbiamo sentito anche azioni che sta intraprendendo da tanti punti di vista sia la Giunta che il Consiglio regionale. Allora, Giorgio ha introdotto il discorso sul provvedimento che lei ha preso, cioè la Costituzione degli Stati Generali dello Sport, che credo parta proprio da una grande azione, un'azione efficace di prevenzione dalle patologie attraverso uno stile di vita sano. Allora, in che cosa consistono questi Stati Generali? Allora, intanto credo sia doveroso fare una premessa. La Giunta regionale è la parte, perché non tutte le persone che ci ascoltano sanno come è costruita l'amministrazione regionale. C'è la Giunta regionale che ha il Presidente Chiamparino, il Presidente della Giunta regionale del Piemonte, che è l'organo dell'amministrazione. E poi c'è il Consiglio regionale che è l'Assemblea parlamentare. Nell'Assemblea c'è una maggioranza e un'opposizione, quindi che legifera. Io sono il Presidente del Consiglio regionale e rappresento tutte le forze politiche in campo. E il Consiglio regionale, oltre alla produzione normativa, quindi le leggi e tutti gli atti, ha il compito, così prevede il nostro statuto, di coltivare quelle che sono le aspettative e le vocazioni dei territori. Abbiamo il compito di vendere comunque, complessivamente, noi classe politica, il brand della regione Piemonte. O potenzialità. O le potenzialità, lo si fa non solo con la produzione normativa, ma cercando di capire quali sono le vocazioni del nostro territorio. E su cui costruire dei progetti. E su cui, è bravissimo, è costruire dei progetti. Io ho sempre pensato come cittadino, perché prima di essere un politico, o comunque, chiunque assolve una funzione è sempre un cittadino. E il compito del cittadino che si dedica alla politica è cercare di portare all'interno del quadro politico, della cosa pubblica, le caratteristiche professionali, le capacità. E le mette a disposizione, perché la politica è una passione. E allora, se io da semplice cittadino, mi chiedevo, ma come mai ci sono dei dati scientifici? Quindi abbiamo speso dei soldi per avere dei dati scientifici. I dati scientifici ci dicono che se c'è un certo tipo di prevenzione, se viene favorita l'attività motoria per i cittadini, che siano bambini, adolescenti, giovani, anziani, la sanità risparmia dei soldi, aumenta la qualità della vita e quindi... Perché quelli diventano costi sociali. E diventano costi sociali, ma non solo, è proprio la qualità della vita. Allora mi chiedo, se queste cose io le pensavo quando ero cittadino, nel momento in cui divento rappresentante della comunità piemontese, posso dimenticarmi di quella formazione culturale che avevo. E allora che ho fatto? Ho dato lo stimolo affinché si potessero costruire gli stati generali dello sport. Ecco, chi viene compreso negli stati generali? Gli stati generali dello sport sono rappresentati, è presieduto dal presidente del Consiglio regionale, quindi dal sottoscritto, poi c'è l'assessore alla sanità, l'assessore allo sport, l'assessore all'istruzione, il coinvolgimento del MIUR con il direttore scolastico e il presidente del CONI. Poi diventa un discorso di tipo anche nazionale, è una rete, bravissima, una sorta di tavolo permanente, quindi mettere in rete, far parlare le istituzioni. Qual è la finalità degli stati generali dello sport? È quella di condizionare gli stili di vita delle persone. Cioè se prendiamo conoscenze e consapevolezza di quello che dicevo prima, e certe devono essere presenti, il primo veicolo di crescita per i cambiamenti sono i giovani, è la scuola. La scuola a partire direi dalla scuola primaria? La scuola a partire dai bambini, poi le dico anche di un famoso protocollo che stiamo firmando con la Ferrero nel territorio di Alba. E quindi condizionare gli stili di vita. Faccio solo alcuni esempi. Cioè quando un cittadino e quindi un politico, questo è solo una piccola nota, al politico gli si dà questa informazione e si dice che quali sono i rischi della sedentarietà? E c'è l'aumento rischio di diabete giovanile e predisposizione in età adulta. Poi ci dicono l'incremento della pressione arteriosa, le patologie osse ed articolari, quindi ulteriori problemi, conseguenze psicologiche deleterie, autostima e meno socialità. Sono tutti i campi in cui lei dice si può intervenire dal punto di vista culturale fin da bambini, fin dalla nascita. Fin dalla nascita. E poi ci sono i vantaggi. E i vantaggi favorisci un peso adeguato, fortifica l'apparato muscolo-scheletrico, proviene alterazioni alla colonna vertebrale, apporti in beneficio al sistema nervoso e al cervello. La politica ha capito che dal punto di vista sanitario bisogna fare della prevenzione, anche culturale, intervenire subito. Bisogna favorire l'attività motoria e cambiare gli stili di vita. Ma come puoi, questi stili generali, cosa mettono in campo questo strumento? Le faccio un esempio. Quindi dicevo, favorire l'attività motoria collegata all'attenta alimentazione. Se mi dicono i dati scientifici che se fai un'attenta alimentazione e favorisci l'attività motoria, diminuisce il rischio di malattie e diminuiamo anche il costo sociale della sanità, se io come politico non mi attivo, io considero questo come un'omissione di soccorso. Certo. La politica non si è occupata di questa cosa. Certo, si deve occupare. E quindi si tratta di mettere in rete e entrare all'interno delle scuole e trovare qualsiasi tipo di meccanismo con l'aiuto, il supporto della società viva, quella vera, la società civile, e vengo alla convenzione con Ferrero. Ferrero ha finanziato un progetto che si chiama... Quindi stai parlando della convenzione con il CONI? Sì, sì, sì. C'era Joy of Moving. In pratica hanno fatto, ci sono dei dati scientifici e c'è un ritorno, un vantaggio per il benessere dei bambini che vanno da 3 a 11 anni. Per favorire l'attività motoria dei bambini, se tu gliela imponi, devi fare questo e devi fare questo, non tutti i bambini quindi riescono, perché ci sono i bambini pigri, i bambini che si sentono un po' emarginati. E non vedono il valore aggiunto di questa cosa. E non vedono il valore aggiunto. E quindi questo, diciamo, questo comitato scientifico, tecnico, ha portato dei risultati, in termini quindi di benefici, facendo avvicinare il bambino allo sport tramite un'attività ludica, cioè si deve divertire. E qui interviene il CONI? E qui interviene, no, è intervenuta la Ferrero, quindi ha finanziato un progetto pagando, quindi sostenendo da un punto di vista economico, ma l'azienda Ferrero? L'azienda Ferrero, dei laureati di scienze motorie. Ecco che qui c'è anche il rappresentante di Suism negli stati generali, quindi con il coinvolgimento del CONI, ecco la rete si fa squadra, perché uno da solo non risolve mai il problema, sia se una persona fisica, sia se un'istituzione. La capacità oggi, soprattutto in un momento di crisi, è quella di creare una rete. Quindi ci sarà un professore di sostegno rispetto al classico professore, diciamo, di educazione fisica e si favoriscono nuove modalità di fare sport ludico-sportive e i risultati sono straordinari. Si formerà, si firmerà quindi questa convenzione e si creerà una rete nel territorio. Quindi, applauso alla, devo fare pubblicità alla Ferrero, ma applauso anche alla sensibilità. Questa si chiama responsabilità sociale delle aziende. C'è chiaramente il momento in cui le istituzioni vedono che ci sono delle aziende che vogliono pubblicizzare il loro marchio mettendo in atto comportamenti virtuosi con una sorta, diciamo, di responsabilità sociale. Ebbè, bisogna, le istituzioni devono sgranare. Diciamo che i privati possono essere sensibilizzati ad alcuni argomenti se gli vengono creati degli strumenti, delle possibilità. Certo, non è vero che gli imprenditori sono sempre solo ciechi o sordi. No, questo non è stata mai una mia posizione, assolutamente no. Sono d'accordo. Quello che chiedono gli imprenditori è di non avere dei vincoli. Cioè, la politica spesso, o le istituzioni, riescono ad ottenere di più. Si dice sarcasticamente contro i politici, se state fermo fate meno danni. Se siete fermi fate meno danni. Quindi la politica deve creare le condizioni affinché le imprese private possano, diciamo, lavorare di più. Senta, lei ha parlato di più forze in campo. Il Miuro, il Coni, il Ferrero, gli assessori. Tutti sono stati disponibili allo stesso modo? Tutti, tutti. Disponibilità assoluta. All'inizio qualcuno pensava che fosse una sorta, diciamo, di intromissione del Consiglio sull'amministrazione dello sport. C'è sempre paura, poi, di prevaricazioni. No, no, però invece devo dire un rapporto brillante perché gli stati generali non sono stati costituiti per amministrare la cosa pubblica, il comparto sportivo nella cosa pubblica. Assolutamente no. Per favorire una collaborazione. No, noi dobbiamo trovare quindi il modo di spiegare, così come lo sto spiegando adesso con esperti, chiaramente tecnici a costo zero, di spiegare alla comunità piemontese che se fai sport e lo fai in un determinato modo stai meglio e se sei attento a un certo tipo di alimentazione stai ancora meglio e quindi previeni delle malattie e in aggiunta dai un tuo contributo alla società perché la società spende meno. Diminuiscono i costi sociali. Diminuiscono quindi i costi sociali. Quali possono essere i progetti? Possono essere le convenzioni con privati, quindi con enti, entrare nelle scuole, fare formazione, utilizzare tutta la rete delle associazioni, parlare agli anziani. L'attività motoria aiuta tantissimo. Sì, perché noi stiamo parlando dei piccoli, dei giovani, ma non esclude gli anziani, non esclude nessuno. No, no, questo era un esempio. Si parte dai piccoli fino ad arrivare agli anziani che hanno i 70-80 anni. Anche lì cambiano le condizioni, ma c'è tutto un decalogo. Bravissima. E quindi, se è vero che noi siamo l'istituzione regionale, abbiamo i canali per comunicare con tutto il mondo associativo degli anziani. E quindi siamo privilegiati. Senti, l'ha detto prima, è a costo zero? Cioè questa cosa non costa niente? No, non costa niente, non costa niente. Non costa niente perché... Sono messe in campo le competenze dei vari istituti che sono chiamati al tavolo. Non c'è altro. Non ci sono costi aggiunti della politica. In questo momento è difficile, si parla sempre di sperpe, di costi, di quanto può voler dire mettere in campo una forza piuttosto che un'altra. No, 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 è una questione di costi. Poi c'era magari, se si decide di elaborare un test, un qualche cosa, ma non stiamo parlando di niente. Senta, quanto ci vuole? Utilizziamo, non ci tenevo solo a dire che utilizziamo le strutture degli enti. Certo. Io devo organizzare, devo incontrare un comitato scientifico, devo incontrare degli esperti, dico l'esecutivo degli stati generali, abbiamo tutti gli uffici e tutto l'apparato in regione, non abbiamo tutto a disposizione, quindi non ci sono costi. Dobbiamo solo lavorare. Senta, quanto ci vuole mettere in piedi gli stati generali come questi? Ci va la volontà politica. Se c'è la volontà politica, anche un messo. Diplomatico, perché è necessario che debba passare il messaggio. Mentre adesso mi è stato semplice e chiaro con lei far passare questo messaggio, lei subito mi crede, come oggi mi credono tutti. Certo, all'inizio, quando si parlava di stati generali, dello sport, magari poteva sembrare una prevaricazione, oppure investimenti. Un incarico un po' roboante. Uno pensa ai stati generali, chissà che cosa, o qualche volta, quello che si teme della politica è che qualcosa possa essere inconsistente, che possa essere un'azione inconsistente. Invece il sistema di rete è quello che si sta dimostrando il più efficace, in un momento soprattutto in cui non ci sono. Però per capire se un atto, un comportamento è consistente o inconsistente, bisogna aspettare un certo periodo di tempo e quindi alla fine dice che cosa avete ottenuto? L'osservatorio. L'osservatorio, che cosa avete ottenuto? E quindi io credo che sia indispensabile. Poi ci tengo a fare un passaggio che per me è molto importante. Io quando penso all'uomo, nell'accezione più ampia del termine, più filosofica, è una persona straordinaria, perché abbiamo realizzato progressi scientifici, quindi straordinari. In tutti i campi, certo. Sì, ecco, e lo leggo su una faccia della medaglia. Sull'altra faccia della medaglia, mi metto io in prima fila, dico ma può essere che c'è questa stupidità straordinaria dell'uomo? E' lo stesso limite, è quello per cui poi distruggiamo quello che facciamo o nella maggior parte dei casi non costruiamo. Può essere che è così stupido. E quindi noi veniamo a conoscenza di questi dati scientifici e non facciamo niente. Allora io non voglio iscrivermi al club della stupidità, né a livello personale né come rappresentante delle istituzioni e quindi le informazioni che io ho le metto la mia vita privata e come mi muovo io nella mia vita privata. Da un punto di vista quindi alimentare, per quanto riguarda l'attività motore e tutto, perché non devo mettere a disposizione della comunità queste informazioni? Credo che sia un dovere. Giustissimo, allora da un punto di vista filosofico è vero, l'uomo spesso distrugge, molto spesso non costruisce. Nell'accezione più particolare, legata per esempio alla figura dei politici, ci si chiede ma perché se mettere a rete, a sistema le forze dovrebbe essere la cosa più naturale, anzi la più immediata, soprattutto in un momento in cui non ci sono risorse. Spesso però la politica non ce la fa, quindi è anche il limite del politico. Magari i mille lacciuoli che vengono messi in mezzo, i periodi molto difficili in cui si possono trovare le coalizioni dei partiti, le istituzioni, però spesso è la politica che non ce la fa a fare questo tipo di gestione che potrebbe sembrare la più naturale, cioè quella di mettere in relazione a sistema le risorse. Beh, la politica e il sistema democratico comunque è diverso rispetto alla gestione di un'azienda. In un'azienda decidi che devi produrre gli occhiali in un determinato modo. Quello è l'obiettivo, certo. Quello è l'obiettivo e quindi nessuno ti ostacola. In politica, anche se sei bravissimo e decidi di produrre gli occhiali, comunque non basta, c'è il confronto, ci sono gli impedimenti, c'è la burocrazia. Ma le opposizioni è giusto che ci siano, solo che il problema è che è un po' strano il concetto democratico. Il concetto democratico significa, secondo me, che è necessario aprire il confronto, il confronto, però poi chi ha la maggioranza faccia la maggioranza e si prende le proprie responsabilità e la minoranza faccia la minoranza... Cioè, anche la responsabilità di sbagliare. È la responsabilità di sbagliare. Devo dire che, quindi non esprimo giudizi, ci mancherebbe altro sulla mia persona, però il target della qualità della politica e della classe dirigente del nostro Paese ha lasciato molto a desiderare. E quindi, nel momento in cui arrivano persone... Arriva una proposta e fa fatica... E certo, fanno fatica perché è l'affattatizio che è più bravo di me e quindi si innescano anche questi altri meccanismi. Appunto, quella mentalità che qualche volta è paludosa, rallenta... Ecco, però adesso abbiamo il vantaggio della crisi. È vero, sì. Perché la crisi è un problema... La crisi ha scompato una creatività... Bravissima, c'è lo svantaggio della crisi per tutto quello che viviamo oggi, ci mancherebbe altro, però c'è anche un vantaggio. E il vantaggio è che il cittadino oggi si sente più vicino alla cosa pubblica, perché si rende conto che quando i soldi non quadrano in un bilancio pubblico vengono presi nelle tasche del cittadino. E devo dire che forse... E quindi si è sviluppata di più, si sta sviluppando una coscienza civile dei cittadini. E anche un maggiore coinvolgimento. E certo, un maggior coinvolgimento. Devo dire che i politici adesso stanno anche effettivamente valutando la possibilità di soluzioni creative, dove si mettono, quello che stavamo dicendo appunto prima, cioè si mettono a sistema le competenze, le professionalità. Questa è la parte meno dolorosa di un percorso invece che dolorosissimo, quello della crisi. Senta, vabbè, non abbiamo tantissimo tempo prima dell'interruzione, ma tanto continuiamo dopo, quindi lo introduco adesso. Un altro passo molto importante che ha fatto il Consiglio regionale è stato quello di impegnare, di ampliare il proprio impegno per la promozione e la tutela dei diritti umani. Lì si apre un campo grandissimo. Cioè è un tema che tocca gli ambiti più disparati. Che cosa prevede, come è stato costituito e quali obiettivi si pone? Allora, anche qui uno cerca di portare la sua sensibilità. Oggi vediamo che i diritti umani vengono calpestati in tutto il mondo. Quindi abbiamo delle competenze e comunque ognuno è protagonista della sua vita e quindi deve dare un contributo. Non possiamo vivere come soggetti passivi. Anche qui si parla di impegno civile. Si parla di impegno civile. Intanto nel Comitato di diritti umani abbiamo nominato... Come è costituito questo Comitato? Ci sono dieci esperti. Hanno fatto regolare domanda, anche qui senza costi. Dieci esperti e presieduti... E quindi non costano, non vengono pagati. Quindi volontari, senza nessun emolumento. C'è un consigliere regionale in carica della maggioranza e uno delle opposizioni e poi due ex consiglieri. Due ex consiglieri e due membri dell'ufficio di presidenza. E lì si tratta... Le tematiche sono tante. Le tematiche da affrontare sono tante. I veicoli principali sono quelli anche qui, quelli della scuola, della sensibilizzazione. Ma il Comitato dei diritti umani non vuole alla fine partorire convegni dove ci parliamo addosso. Dobbiamo cercare di trovare... Di fare azioni. Di fare azioni. E' uno strumento nelle mani del Consiglio. E quindi può il Comitato dei diritti umani promuovere azioni anche normative per... A livello regionale. A livello regionale. E per quello che non è il livello regionale, chiaramente, fare tutte le azioni affinché possano essere promosse nuove istanze. Io penso a... Tra l'altro c'è una discussione se i diritti civili, alcuni diritti civili che ancora non sono stati riconosciuti nel nostro paese, possono essere considerati diritti umani. Tipo? Cioè il diritto civile è diritto civile. Non è una violazione, dice qualcuno, di diritto umano. Quindi tu la vedi così, il riconoscimento degli omosessuali, per dire, con tutte le declinazioni che ne devono... Quindi c'è una fetta, diciamo, della nostra società che considera... Sì, che rientra, diciamo, nella cultura delle persone. Sì, dicono, per me già non sono diritti civili. Figuriamoci se... Se le hanno riconosciuti come diritti umani. Se devo considerare una violazione di diritti umani. Per quello che mi riguarda sono dei diritti umani. E anche qui si apre un confronto. Nel momento in cui c'è una posizione da parte di questo Comitato avrà sicuramente un'influenza sull'attività legislativa e normativa. Senta, allora poi le chiederò nel dettaglio esattamente come inciderà l'influenza di questo Comitato e di questi esperti. Diamo due minuti di spazio alla pubblicità, poi torniamo qua in studio. Pubblicità. Bene, seconda parte di Anthropos che stiamo dedicando questa sera alla Regione e all'attività che svolge il Consiglio regionale. Siamo in compagnia del Presidente Laus che ci stava spiegando appunto questo Comitato che lavora sulla promozione e lo sviluppo dei diritti umani. Parlavamo dei dieci esperti che sono stati coinvolti gratuitamente, è una funzione sociale che svolgono, per promuovere delle azioni a difesa di questi diritti. Dicevamo che è un campo infinito quello della difesa dei diritti umani. Come si possono tradurre nel concreto queste azioni? Intanto è una presa di coscienza da parte delle istituzioni, quindi è importante che la comunità piemontese abbia consapevolezza che l'istituzione è al corrente, che ci sono nel nostro Paese delle gravi violazioni di diritti umani. E sotto gli occhi di tutti, quello che sta succedendo quindi nel Mediterraneo, certo non sarà la Regione Piemonte a risolvere il problema. Però vuol dire collaborare. Significa fare rete, significa sviluppare, significa fare proselvi, significa intervenire anche sui bambini, perché i bambini devono mettersi in rete tra di loro e rompere le barriere da piccoli per formare degli adulti. Le coscienze si formano. Le coscienze, le formi da bambino. Infatti tutte le carenze della scuola sono quelle che poi sono state sempre le grandi lacune che hanno formato. E certo, poi ci saranno, quindi gli esperti ci sono le diverse sensibilità, si farà un piano esecutivo, quindi annuale. Gli esperti che sono stati coinvolti, che tipo di professionalità hanno? Di loro lavorano in, per esempio, un team? Non si conoscono tra di loro, hanno fatto delle domande, abbiamo fatto un bando, professionalità diverse, persone che hanno dedicato parte del tempo della loro vita a rappresentare l'associazionismo anche a livello internazionale. Che coprano già da tanto tempo. E quindi con loro ci sarà un confronto e si cercherà di capire quali sono i primi argomenti da trattare. Quanto resterà in carica il Comitato? Immagino a quanto le donne hanno subito e quando continuano a subire. È un problema irrisolto nel mondo ancora. Dalla violenza ai sui bambini, alle donne, certo sono tantissimi. Oltre a tutti i problemi più complessi, quella delle religioni, le tolleranze fuori dal nostro paese, abbattere i confini e quindi creeremo le condizioni. Aspetta, però non sarà facile, quali saranno le difficoltà ad operare di questo Comitato? Quali possono essere le difficoltà a svolgere queste azioni? Chi può rallentare un Comitato così? Dovrebbe incontrare il favore di tutti, senza problemi? Eh no, dipende, dipende, perché nel Comitato ci sono diverse posizioni, diverse sfumature. Devono prima maturare l'idea. Devono maturare, quindi la cosa importante è che sia un Comitato all'interno del quale, anche qui un tavolo permanente che dura tre anni, ognuno porta le proprie posizioni, ma alla fine il Comitato dovrà esprimersi su determinate posizioni e lavorare in armonia. Anche in collaborazione direi con l'assessore... Anche qui collaborano con gli assessorati. Beh, un po' di collaborazione con l'assessorato. Senta, cambiamo argomento. Assessorato all'integrazione. Certo, perché è inevitabile non considerarlo. Allora, parliamo di modifiche della legge di bilancio. della Regione Piemonte che non avverrà attraverso un maxi emendamento che era stato previsto e che è stato un po', diciamo, cavalcato dall'opposizione. Si considerava un emendamento un po' stasi, che non avrebbe favorito il processo. Stasera vi riunite, mi sembra. No, in questo momento. In questo momento, la sto trattenendo io. Ho chiesto una mezz'ora di... No, in questo momento veramente... Sì, sì, una mezz'ora, una mezz'ora. Allora... Fino a mezzanotte. Anche ieri siamo stati fino a mezzanotte. Oggi fino a mezzanotte. Poi domani ancora c'è Consiglio regionale. Prossima settimana ancora. Ma su questa questione del maxi emendamento è una questione un po'... Ma giornata ha fatto un passo indietro? Cosa ha fatto? È una questione un po' tecnica, di technicality. Cioè io ti capire come funziona? È complicato. È un po' tecnica. L'opposizione chiedeva non un maxi emendamento dove c'erano all'interno tutte le spese, ma un emendamento, uno stanziamento. Gli stanziamenti dovevano essere divisi, suddivisi. Perché era più difficile poterli discutere. Era più difficile, più complicato. Diciamo che non si può. Non si può. Non si potrebbe? Non si potrebbe, non si potrebbe. Però avverrà votato emendamento per emendamento. Votato emendamento per emendamento. Ma dicevo, al di là di questa technicality, che poi sono questioni un po' complesse di tecniche, il tema centrale è che la maggioranza preferisce e ha voluto dare lo spazio politico alle opposizioni per un confronto. Quindi non è un passo indietro, è un passo verso. È un passo verso. Dipende sempre dal punto di vista. La maggioranza ha voluto quindi aprire all'opposizione per un confronto. E di fatti adesso il confronto sta avvenendo. Quello che hanno chiesto in commissione sta accadendo in aula. E la deadline per l'approvazione? E c'è però, devo registrare da parte delle opposizioni, che c'è un comportamento molto responsabile comunque su questo. No, più che collaborativo. Collaborativo nel senso di responsabilità. Perché collaborativo qualcuno può pensare di inciunci. No, di collaborazionista. Quindi collaborativo perché stanno nel merito. Gli emendamenti sono emendamenti comunque di merito. Ne sono tanti e quando aumentano e vengono registrati come una sorta di ostruzionismo è perché vogliono accendere la luce su una loro particolare posizione, quindi politica. Quindi non sono degli emendamenti strumentali come succedeva una volta per ottenere, dammi questo, dammi quello. No, 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 è cambiato. Ma solo per mettere in evidenza? Per mettere in evidenza giustamente le loro posizioni politiche. Io poi da arbitro non devo patteggiare. Senta, quale sarà la deadline per l'approvazione definitiva? Ma io credo che prossima settimana, mercoledì... Dovremmo esserci. Sì, dovremmo esserci. Poi se non è mercoledì è giovedì, però diciamo per la prossima settimana. Senta, uso le parole che vengono usate dalla stampa. Allora, lei stava definito il bolide acceleratore della legge elettorale regionale. Sì, stava definito così, che è il piemontellum, in cui sembrava che tutti i gruppi consigliari fossero d'accordo. Poi di fatto non è stato proprio così, non sono stati proprio tutti d'accordo su questo sistema che sembra basato... Non piace il fatto che sia basato su collegio uniluminali che ha proposto Chiamparino. Com'è la storia? La storia è semplicissima. Tutti i rappresentanti dei gruppi presenti in consiglio regionale hanno manifestato, non da adesso, da tempo, qualcuno l'ha tradotta già con una proposta legislativa, la volontà di eliminare il listino. Per chi ci ascolta significa, mentre una persona deve prendersi i voti e deve organizzare le preferenze per diventare consigliere regionale, altre persone invece basta essere inserite nella lista, nel famoso listino e diventano consiglieri regionali. La differenza è che i primi rispondono agli elettori, si hanno fatto delle promesse e non mantenute, promesse di responsabilità politica di un territorio, altri non devono rispondere a nessuno. Questo è un sistema che non regge. Tutte le forze politiche ad esclusione di nessuno hanno manifestato la volontà di abolire questo listino. Quindi il tavolo era già partito. Dov'è che non c'era allora l'accordo? No, 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 il tavolo era già partito. Lei ha formato una commissione con tutti i rappresentanti di gruppo? No, mentre eravamo nella conferenza dei capigruppi, capigruppo, si è parlato della legge elettorale. Dice che facciamo? Ci attiviamo subito, tra l'altro c'è anche il rischio, si va a votare, quindi non si va a votare, quindi ci attiviamo sulla legge elettorale, e ho chiesto se ogni gruppo voleva partecipare a questo tavolo tecnico per capire se c'è un accordo di massima. Se c'è un accordo di massima, non su tutti i punti, ci mancherebbe altro, ma su alcuni punti, tipo l'abolizione del listino, affrettiamoci e aboliamo il listino. Abbiamo fatto una prima riunione, adesso ci sarà una seconda riunione, credo proprio domani mi pare. E si discuterà quindi di questo, dell'abolizione del listino, nessuna delle forze politiche ha messo in discussione il sistema delle preferenze, e nessuna delle forze politiche ha parlato di collegi, quindi uninominali, se poi devo esprimere un giudizio mio, personale, si lo esprima, credo che una democrazia compiuta possa essere considerata tale, solo ed esclusivamente se i cittadini possono esprimere la propria preferenza. E sulla degenerazione delle preferenze, perché tanti dicono, magari con la preferenza aumenta la clientela, quello è il sistema democratico. Piacciono, funziona, funziona, è il rischio che può correre la democrazia. Certo. La vita reale ha dimostrato che persone che sono state nominate nel Parlamento sono andate a finire in galera. Sì, certo. Quindi non è quella la misura. Allora, infatti a proposito delle preferenze, lei ha dichiarato, le preferenze non si toccano, stiamo ragionando su quattro o cinque circoscrizioni. Ma questa posizione, questa, è stata combattuta tanto nei suoi confronti? No, non è una mia posizione. Questa è quasi all'unanimità di quel gruppo. Poi chiaramente dall'esterno un giornale può scrivere... No, questi sono i commenti che vengono fatti, infatti le chiedo... No, io le do l'interpretazione autentica. Ok. Sui, sulle circoscrizioni, quattro, cinque o sei, cioè chi dice cinque, chi dice quattro, qualcuno dice sei... Ma è che la politica a volte si trova a discutere sui numeri proprio di questo tipo? Cioè cosa cambia da quattro a sei, da cinque a sei? Questo è successo anche con le circoscrizioni comunali. Eh beh, cambia la rappresentanza. Le faccio un esempio. Se la circoscrizione elettorale di Alessandria dovesse essere integrata con quella di Asti, chi rappresenta quei territori? Uno dice, ma io di Alessandria, che ne so... Sì, perché la territorialità... Anche se ormai viviamo in un'era in cui è difficile non tenere ancora dei confini territoriali così netti, no? In un momento... Tenga conto che io sono per le macro-regioni, io sono per ampliare i confini delle regioni, perché credo non sia utile e produttivo per il nostro paese avere 20 regioni, e queste 20 regioni sono state fatte in un particolare momento storico, con il righello, su un'economia prettamente agricola, con un piano infrastrutturale in termini di trasporto completamente diverso a quello di oggi, solo che noi italiani andiamo proprio a rilento. No, esattamente, alcune cose sono anacronistiche. In un momento in cui, per esempio, le grandi città stanno diventando città metropolitane, non sono più comuni, in un momento in cui un paese non può essere più inteso solo all'interno dei suoi confini, ma deve essere, deve ormai essere... Ci sono delle politiche che prima potevano svilupparsi in un territorio, quindi circoscritto, adesso quelle politiche, per poter esplicare la propria efficacia, devono essere gestite in un'area vasta. Faccio un esempio che sembra poco calzante, però rende la portata del messaggio. La politica industriale automobilistica. Cioè, mentre prima poteva esserci una politica industriale automobilistica italiana, adesso le politiche industriali devono essere di grande scala. Avremo tra... Ah, sono internazionali. Nei prossimi anni 4 o 5 produttori, quindi che senso ha per parlare di Italia? Forse anche meno, forse anche meno. Senta, le posso riportare una critica che io ho trovato sui giornali che riguardo a questa iniziativa di modificare la legge elettorale, secondo alcuni è un tentativo per, diciamo, non andare tutti a casa. Che cosa risponde a questo? Io rispondo che è necessaria una maggiore responsabilità prima di esprimere i giudizi di questa portata. Il problema qual è? Che se una persona sta dentro fa determinati ragionamenti. Quello che sta fuori, che voleva entrare dentro ed è rimasto fuori, fa degli altri ragionamenti. Aspetta che tutti gli altri vanno decamente a casa. E invece, quindi, assolutamente no. Assolutamente no. Me la faccia a me personalmente la critica. Io lo chiedo. È un modo per non andare a casa? È indifferente. Cioè, qual è il... Non esiste il vantaggio. Sono polemiche... No, sono polemiche che nascono sempre... Ma polemiche non nemmeno argomentate. No, non sono argomentate qualche volta. È vero. Su questo è vero. Sono in questo momento la politica è attaccata in tutte le sue azioni, in tutti i suoi momenti. Io mi rendo conto che gestire certi meccanismi a volte è molto complesso. Gli attacchi da fuori sono continui, soprattutto quando si instaura una certa instabilità perché accadono delle cose. Allora, la lettura... Le ho fatto questa domanda proprio perché la lettura di chi sta fuori, come diceva lei, a volte è semplicistica. Quindi è importante rifare questa domanda per sentire una risposta No, ma la lettura può essere anche semplicistica. Però se una persona riesce ad avere 8.000, 9.000 voti o 10.000 voti di consenso, o il consenso è pulito o non è pulito. E se è pulito devi portare rispetto a quel consenso. E se tu non hai la capacità di prendere nemmeno il tuo voto perché non sei in grado di prendere il tuo voto perché sbaglia anche a votare, tra virgolette, quindi sto esasperando il messaggio, non vuoi pensare che ti debba mettere una segreteria del partito lì dentro. Oppure una segreteria del partito debba indicare te in quel collegio uninominale. Non funziona così. Questo tutto è tranne che democrazia e io con tutti i mezzi combatto questa filosofia. Questa mentalità. Senta, Presidente, allora, indubbiamente la Regione in questo momento è un po' in difficoltà. Nel senso che si è verificato questo problema, c'è stato un ricorso al TAR circa, dicevamo, l'attendibilità e il metodo di, diciamo, di sottoscrizione di raccolta firme durante il periodo elettorale. Allora, si è stabilita una deadline che dovrebbe essere il 9 luglio. Cioè, il 9 luglio dovrebbe, il TAR dovrebbe... Una data indicativa. Una data indicativa. Poi non è 9 luglio, settembre, però... Non è detto, non è detto. Diciamo che ipoteticamente c'è questa data che potrebbe essere il 9 luglio in cui il TAR potrebbe esprimersi. Che cosa accadrà se si esprime... Allora, il governatore Chiamparino ha dichiarato con un certo anticipo che lui sarebbe disposto a dimettersi. Questa dichiarazione data un po' in anticipo non ha creato un po' di destabilizzazione? La destabilizzazione è nata quando è emerso il problema. Cioè, non è che l'abbia fatta nascere Chiamparino. Nel momento in cui è emerso che c'era un problema di firme e quindi il TAR e i giudici devono analizzare un tema per il quale su aspetti completamente diversi se ne è discusso negli anni precedenti con il governo Cota. Ma la situazione è completamente diversa. Adesso non vorrei entrare diciamo nei dettagli. Però l'imbarazzo è un po' lo stesso. Certo che è imbarazzante ed è molto imbarazzante. Vedremo che cosa diranno i giudici in base a quello che diranno i giudici. Sicuramente Chiamparino, credo, poi bisogna chiederlo a lui. Adesso non posso dare un'interpretazione autentica. Perché lui l'ha dichiarato a diversi giornali perché non è presente. Non può passare Chiamparino ma giustamente conoscendolo ma non può passare nemmeno questa maggioranza del Consiglio come quelli che vogliono stare attaccati alla poltrona. Assolutamente no. Quindi è inutile trovare questo secondo me voleva dire Chiamparino mille spedienti per cercare di allungare il brodo. E lui dice io sulla graticola non ci sto. Lei conoscendolo secondo lei sta patendo il governatore questa situazione? Sta patendo questa situazione la sta patendo lui e la stanno patendo tutti i consiglieri regionali e la sto patendo tutti quanti perché non sappiamo ancora nel dettaglio che cosa è successo. Io personalmente tutte le volte che sono venuto a conoscenza di alcune informazioni che avete letto anche sui giornali io le ho sempre rispedite ai mittenti al mittente perché nel momento in cui interviene la magistratura decida la magistratura poi tutto quello che è successo chiaramente sono dispiaciuto. Però secondo lei siccome Chiapparino è stato abbastanza un po' perentorio da questo punto di vista proprio perché probabilmente come dice lei la giunta lui tutti quanti state un po' patendo questa situazione lui è stato un po' perentorio dicendo ma qualunque cosa accada io mi dimetterò secondo lei lo farà? Qualunque cosa accada dipende in termini negativi qualunque cosa sia il giudizio del tante. Sì certo che lo farà se è negativo dipende da che cosa dicono i giudici se devono approfondire e fare delle verifiche o un discorso dipende dal pronunciamento il TAR potrebbe potrebbe allungare i tempi a quel punto allora si si aspetta e certo se il TAR deve lavorare lo lasciamo lavorare perché il governatore era stato un pochino più perentorio aveva detto indipendentemente dal giudizio del TAR sì vabbè però molte volte si fanno delle dichiarazioni a caldo quando no 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 secondo me non gli sono scappate attendibili molto attendibili si fanno delle dichiarazioni poi queste dichiarazioni devono essere lette in un contesto certo senta le chiedo visto che siamo qua stiamo parlando dell'attività della regione un suo parere se dovessimo diciamo soppesare ma così proprio in maniera molto onesta una differenza e non sto parlando di giudizi e non chiedo giudizi in chi è stato migliore che è stato peggiore ma soppesare una differenza di gestione Bresso-Chiamparino per i dieci mesi che si sono tenuti finora qual è la differenza di gestione su cosa diciamo si sente maggiormente la differenza delle due governance le domande di figlio guardi è cambiato il contesto economico siamo in anni in anni diversi stiamo proprio in un altro mondo quello che prima poteva essere potabile e quindi virtuoso un intervento della politica su un comparto culturale sulla formazione sull'innovazione sulla ricerca oggi magari può sembrare anacronistico ed è proprio assolutamente impensabile è cambiato proprio il contesto è cambiata anche la consapevolezza dello stesso consigliere regionale la crisi ha portato una coscienza diversa una coscienza diversa anche la stessa gestione dei gruppi i soldi i finanziamenti per esempio i gruppi mentre dieci anni fa dare al consigliere regionale per ogni consigliere regionale un importo affinché questo potesse espletare il suo mandato per oggi non sta né in cielo né in terra quello che poteva essere ordinario una volta oggi è assolutamente è molto più difficile per esempio parlare di cultura quando invece al tempo dell'abresso c'erano tanti più soldi quindi era più facile più progetti sostenere io mi ricordo tantissimi progetti sulla ricerca che erano a parte che anche adesso se ne fanno e con un sistema di rete io devo dire che qui in trasmissione spesso ospitiamo anche tutte le partecipate che lavorano nella ricerca parlo di IREN parlo di SMAT fanno tantissimi progetti mettendo in rete come fa lei mettendo in rete le professionalità perché se no non si va avanti però mi ricordo che c'erano progetti per esempio di un bellissimo laboratorio all'idrogeno all'interno di Environment Park c'erano delle cose che erano permesse perché c'erano risorse è chiaro che il cambio di risorse ha fatto la differenza e quindi esprimere esprimere un giudizio non è rispettoso nei confronti né dell'uno né dell'altro le faccio un esempio faccio un esempio cioè nel nostro paese Italia in pratica il problema non è la crisi non è che nasce è un problema eh no secondo me no qual è il problema? il problema è nel nostro paese Italia che in questi 40 anni in questi 40 anni noi abbiamo vissuto al di là delle nostre possibilità sto parlando non dei privati parlo proprio del pubblico quindi se tu incassi risorse pari a 100 non puoi spenderne 180 e noi invece abbiamo speso con il pubblico 180 certo e c'era la possibilità di indebitarci cioè chi ci ha governato ci ha indebitato ha rovinato le attuali generazioni adesso in pratica che cosa è successo? viene detto agli attuali amministratori guardate che voi non potete indebitarvi all'infinito dovete ridurre e non potete superare questa asticella e certo se uno ha una macchina un impianto per il quale serve 100 e dalla sera al mattino serve 100 e i 100 venivano raggiunti con 70 di indebitamento e 30 invece di spesa perché di spesa propria oggi come fai? no no certo ho 3 minuti e 38 che sono un po' pochi per chiederglielo però lei ha preso un paio di provvedimenti a proposito di tagli delle spese e di spese della politica adesso parto dalla campagna elettorale di Chiamparino che ha fatto la campagna elettorale dicendo se io divento governatore farò in modo che ogni assessore non guadagni più del sindaco questa è la tale veniamo ai compensi all'interno del consiglio lei ha preso un provvedimento rispetto ai consiglieri della legislatura precedente cioè la legislatura precedente per un ricorso al TAR che appunto è stato vinto ha governato 4 anni invece di 5 allora in teoria quei consiglieri avrebbero maturato il diritto al vitalizio perché avevano superato la metà del mandato lei ha tolto questa possibilità è così? io con l'ufficio di presidenza abbiamo deliberato in senso opposto perché il mio ragionamento è questo al di là della la norma dice che puoi integrare quindi hai diritto al vitalizio perché non ho sposato questa filosofia questa interpretazione perché mi son detto se il consiglio di stato ha considerato ha annullato le elezioni vuol dire che erano nulle non aveva valore gli atti in conto sono gli atti amministrativi perché c'è il principio della continuità degli atti dell'amministrazione e un conto è darti cioè puoi fare solo atti puoi fare solo atti indifferibili ed urgenti guarda caso ti do questa possibilità e secondo me non è una cosa possibile quindi non è venuto meno la condizione per poter avere la vita non c'è la condizione poi gli interessati hanno fatto ricorso al TAR quanti ricorsi sono stati? tanti? non mi ricordo il numero adesso il TAR ma non tutti non l'hanno fatto no non tutti adesso il TAR ha passato la palla alla Corte dei Conti e la Corte dei Conti sta valutando si esprimerà può essere che dicono di sì senta anche questa gliela faccio in un minuto e 43 perché se no perché poi dobbiamo chiudere io qui ho un provvedimento che riguarda l'abolizione del contributo annuale per il funzionamento dei gruppi consigliari cosa ha abolito? mentre prima i consiglieri nell'altra legislatura c'è stata questa legge applicata licenziata all'unanimità da parte di consiglieri regionali prima ogni consigliere regionale aveva un importo con il quale doveva pagarsi il collaboratore e gestire l'attività beni e servizi e poi è successo tutto quello che è successo con la nostra delibera dell'ufficio di presidenza non ci sono più contributi ai questo già lo prevedeva la legge comunque non ci sono contributi per i consiglieri ma vengono dati ai consiglieri dei servizi prodotti dall'ente stesso ok, gli vengono dati dei servizi non dei soldi dei servizi quindi loro utilizzano ciò di cui hanno bisogno senza doverlo pagare e il risparmio è stato quasi dell'80-90% con tutto quindi non le chiedo le cifre precise no, no, no un risparmio dell'80-90% no, adesso ogni consigliere può spendere il calcolo mi pare sono circa 6-7 mila euro rispetto ai famosi 90 mila che puoi immaginare annui quindi abbiamo un taglio senta, siamo giunti al termine della nostra trasmissione io voglio ringraziarla tantissimo per la disponibilità perché so che deve essere in bilancio a discutere il bilancio le faccio tantissimi auguri ovviamente soprattutto per questi provvedimenti che riguardano la Costituzione degli Stati Generali dello Sport e per quello per il Comitato in Difesa dei Diritti Umani le faccio tantissimi auguri e ovviamente a tutti voi che ci avete seguito io do il mio ringraziamento e come di consueto passo la parola a Giorgio Di Efea buonasera, grazie grazie, buonasera grazie a tutti grazie a tutti